Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! La metà delle cose che mi hanno detto non sono bene, però va benissimo. Quella che ti ha fatto più arrabbiare, quella che ti ha ferito di più come uomo, che ti ha dato più una sensazione di tristezza alla pessoa per rimanere in tema di Portogallo. Qual è stata? La terza. Roger, vamo a tenere un problema! Roger, vamo a tenere un problema! Perché il mio scudo è che ti ha posizionato in basso nella classifica? Gure il multo di chi ti è stramur! No, quello non lo capisce Marzò, non lo potrà mai capire quello, devo essere sincero. Non è possibile lo che assiste! Allora, signori, prima di andarci a vedere qualche bilino... No, regà, sto a mettere una sbraga dei fusibili, ho messo tutti i fusibili io, fratello. Ok, tutti i fusibili messi. Tutti i fusibili già messi. Bisogna mettere la gasolina qui, è vero? La gasolina? Dov'è la gasolina? Mi sembra troppo semplice così. Ha già messa, se no non farebbe rumore motore, zio. Cosa scendi? Non ti scende ancora? Mi stavo in entro! Mattimo di retro marcia, grazie! Ma che cazzo? No, ragazzi, cosa succede? Quello è il cartone che avrebbe dovuto tirare Mike Tyson a Jake Paul, ma che non è accaduto. Guardi, vi faccio passare, gentilmente. Vai, vai. Dobbiamo ritornare di nuovo. Sì, è mille volte avanti e indietro. Mammo, mammo for stars, please, please. Ok. Oh! Oh, Dio! Scusate, cazzo, manca. Ragazzi, ma andai. No, mammo, mammo, buono. Willy, grazie per i 10. Cazzo, grazie per i 2. Cazzo, cazzo! Cazzo! No, 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 no. Ragazzi, i caddi andando in retromarcia ha una bolla. No, tt2, porco Dio, tt2. No, bastala, bastala, beco, tanto faccio d'accordo. Perché? Sei vivo, sei vivo. Un attimo di retromarcia, grazie, ma che cazzo? No, ragazzi, cosa succede? Quello è il cartone che avrebbe dovuto tirare Mike Tyson a Jake Paul, ma che non è accaduto. Salvo! Grazie per aver regalato il sub a Seifrocio. Seifrocio, benvenuto nella flotta spaziale. È un utente di Twitch, signori di Twitch. Se proprio ve la dovete prendere con qualcuno, prendetevela con voi stessi. È un utente di Twitch, è un nome. Qual è il film con più incassi nella storia del cinema? No, aspetta, o Avatar o quel cesto di Avengers. Avengers, dai, sono tutti gay. Allora, il maestro mi ha chiesto per favore di... One new... ...questa è Interstellar. Ho sbagliato, porco Dio! Comunque è violino. Era proprio Hans Zimmer questo che ho sentito. Nora, mujeres? Aspetta, aspetta, anzi, ti dirò di più. Velocità di riproduttore 0,5. Ma, volta, è presto? Mamma, avanti. Io non ho visto ninguna. Non credo che in Italia sean macistas. No, ragazzi, secondo me, diciamo che c'è stata una... una collisione, ecco. Posso permettermi? Perché mi dicono che il macista è maschilista. Ciao, Avatar. Fantastico. E qui? Ciao. 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 Tu sei la mente. Tu sei la mente. Io trovo in questa capoccia geniale nasce... Tenere un problema. Che problema? Roger, vamo a tenere un problema. perché è il mio scudo e ti ha posizionato in basso in la classifica. Gure il multo di chi ti è stramur. No, eh, quello non lo capisce, Marzò. Non lo potrà mai capire, quello. Devo essere sincero. Non è possibile lo che assiste. Allora, signori, prima di andarci a vedere qualche video... Ma io ti sembro Fabio Mollura. Dammi tre mesi e probabilmente assomiglierò a Fabio Mollura, signore. Io ti ho invitato, eh. Allora, grazie per il sub. Tu sei nel pieno della tua mola. Che mola! Che mola! Più gli servono i soldi a questi più si rischiano un lavoro. Ma come cazzo è possibile? Marzò, come si accetta l'invito da Ubisoft con le... Tanno le palle così. Ma io che cazzo ne so? Mi hai tolto la musica! Dai, ma se... Dai, ma se... No, no, ma... Marco! Non male! Marco, però! Vedi, cara! Ma dove cazzo me l'hai messa? Vieni, vieni, vieni. Stai bene. Non succhi un pene. Stai attento, sto arrivando. Ti farò vivere di... Regà? Vai avanti. No, bro. Bro... Che? Sei vivo? Sei vivo? Ma sono, prego! Ma lo stai... Mi stavo venendo in cazzo! Ma sono, prego! Ma un attimo di retromarcia! Grazie, ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? No, ragazzi... Quello è il cartone che avrebbe dovuto tirare Mike Tyson a Jake Paul, ma che non è accaduto. Non vuoi di sempre lì, scorgiamo. Guardi, ridotto con... Ma, 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 ma... Ma, 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 ma fabio cio le bende fabio se ce la fai cio le bende delle posto troppo dei valori immobiliari altissimi che aveva il saldario risolto proprio che c'è da cento di quello di lisbona e non fallo porto che si chiede sculti inglesi supportiste che io pensi che poi te lo spiego perché abbiamo scelto diciamo la strada bravo bravo